il ginecologo mi ha consigliato ginnastica e movimento nessun cenno le droghe leggere secondo te un diretto non posso fare secondo la segretaria di uno studio medico no però però la segretaria e la segretaria no e quindi poi questa è tutta roba naturale biologica quindi sì non ci sta tabacco nicotina quella roba c'è naturale